E salve a tutti ragazzi bentornati qui su Lero Nightmares nella seconda parte su DLC Con questo ragazzo siamo purtroppo nella fognatura che ha a che fare con un tizio abbastanza strano che sembra respirare sott'acqua Quindi andiamo subito avanti nel gameplay e vediamo se riusciamo ad andare avanti E così lo infichiamo direttamente qui Come vuole Giriamo, giriamo, cosa stiamo facendo? Ah la porta Eh adesso ce la facciamo? Secondo me no Vai 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 Sì ce l'ha fatta Qua è tutto scuro Potete tagliarti vero? Ah sì Tagliarti Faccio una porta Abbiamo svegliato lui Che brutto ma questi qua vivono nell'acqua proprio Ma sono due Mamma mia Sono due Non puoi sprofondare quello Non puoi sprofondare quello Dai veloce per favore Veloce Veloce Mamma mia Ma che brutto eh Guardiamo di qua Non so se dobbiamo andare per di qua Ormai sono già qui Sì è molto probabile Dai È attivata la corrente Ma questo è come vive In un modo strano proprio Ma è attivata la corrente Ma dobbiamo attivare questa levetta Oh mamma mia Oh mamma mia Tagli lì ok Allora Allora Questo qua È super arrabbiato È un ragno Hai visto che ragno? Sì Dai 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 Veloce per favore Più veloce Ole Non è scassa tutto questo Che brutto Mamma mia Ma da là Ok secondo me Dobbiamo scivolare Con la televisione Nooo Ho preso la corrente Sì ma automaticamente Però lui muore Noi dobbiamo lanciare La televisione giù Perché sennò Ci va a cadere nell'acqua Veloce dai Muori Via Così Sto cosa Brutto Ok Adesso possiamo andare Oh Come ho detto Polini Cosa è successo? Sì Vedi lui Vero Ah qua ragazzi Questa parte mi ricordo E dove ero io Intrappolato Però non avevo visto Che c'erano altri due Come me lì Solo qui davanti Ah Ci hanno messo Direttamente dentro E noi stiamo cercando Di uscire Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Oh mamma mia Ahia Oh 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 Ok secondo me si incontreranno Prima o poi E loro due Ragazzi Capito C'è paura C'è paura guarda L'è carezzato Vedi C'è carezzato? Perfetto Ma è il Domenico Sì Secondo me si Hai capito che Ok ragazzi Stiamo Andando avanti Abbiamo aperto la porta Dove non mi sente Ah perché Senza volume Eh Senza Un Un disegno Veloce Veloce No mi ha preso Adesso funziona Questo Oh mamma mia Veloce 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 Ah perchè ho scambiato l'Igo Guarda, l'abbiamo spaccato in due perchè adesso... perchè si è accorto di un mostro Sì, quindi adesso noi dovremmo... ah, dovremmo andare qui allora Ah, quindi... stanno venendo... Quale sono queste cose? Sono... 6 amici! Sono amici! Guarda, davvero! Seguono! Quanti amicetti! Olè! Ed eccoci qua! Ancora amici? Ciao amici, siamo tutti qua! Hai paura? Aiutalo! No, così... Ah, ma ci sono ancora amici! Mi devono aiutare ad accendere più il fuoco, ecco perchè Non ce l'ha pure il fuoco, capito? Oh! Dei far funzionare! Si sta uccidendo, eh? Ah, c'è un'altra amichetta qua! Oh, si è infilato qui dentro! Amico mio, non scappare, vieni! Vieni qua, non scappare! Che puro, dai! Accarezzato! Ecco, vieni qua! Facci cosa c'è qua! Andiamo a questo qua! Non si è incastrata! Ecco qua, siamo amici, no? Vieni qua, vieni a darmi una mano, vieni! No, come cammino! Adesso li metto tutti a lavorare! Va bene! Vai, andate tutti a lavorare! Facci! Fate il più carbone possibile! Bravi! Oh! Ora si che sta funzionando! Bravi! Mamma mia, è tutto scuro! Forse c'è un mostro! Oh, mamma mia! Aiaiaia! Quello c'era! Mmm, quello devi prendere! Quella l'ha funzionato! Ah, la corrente, si! E quella lì sopra! Sì, avevo detto che quello non funzionava! Dovevi prendere un altro! Eh, ma come? Salire! Ma? Non si sa arrampicare! Ah, dovrà aprire il cassetto sicuramente! Eh, infatti! Abbiamo anche l'altro! No, non mi fa aprire! Riesce a saltare? No! Dobbiamo fare tipo una scala! Mmm... Scala di cassetto! Sì! Scala di cassetto! Ecco qua! Sì! Abbiamo fatto la scala! Prendiamo la batteria! Speriamo di non farla rompere! Oh, mamma mia! Fai un po' da rompere! Fai un po' da rompi! Aspetta! Sì! Perché non si è rotto, dai! Almeno questo! Ah, ma qua c'è il mostro! Devo stare attento! Il mostro! Ti ho visto! No! Silenzio! Facciamo silenzio! E' bello che si trova davanti a me! Come faccio? Se ti metto! A me lo sto cercando dall'altra parte! No! Mi ha preso! E va bene, ragazzi! Dai, direi che il video può finire qui perché è durato parecchio! Cercherò di fare dei pezzi... Cercherò di tagliare durante l'editing perché è veramente abbastanza lungo la storia! Quindi, ragazzi! Spero sempre che questo video vi sia piaciuto! Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto! Di trovare la campanella per non perdere i nuovi video! E metto un like! Quindi, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video! Ciao! Ciao!